L'ho un po' detto prima, quello che diventa fondamentale è avere il coraggio di fare giocate che determinano, avere il coraggio di fare scelte importanti, avere la convinzione come abbiamo già fatto vedere di poter determinare queste giocate o queste scelte di cose che fanno parte del nostro bagaglio, fanno parte della nostra qualità. Io andrò a chiedergli, diventa abbastanza facile, andrò a chiedergli di mostrare sempre la faccia cattiva da qui in avanti perché non c'è più tempo per vedere che partita avremo la prossima e andarla a determinare nella prossima il nostro obiettivo, il nostro traguardo. Noi se andiamo a pensare a quello che c'è dopo vuol dire perdere di vista il presente. Questa partita qui, in questo momento qui è il nostro futuro, è l'importanza del nostro futuro, è la possibilità di raggiungere l'obiettivo che abbiamo davanti e di cui abbiamo sempre parlato. Per cui non c'è più tempo per tanto poi riesco a rimettere a posto nelle prossime partite se ne sbaglio qualcuno adesso. Ci deve essere la consapevolezza di analizzare in maniera corretta quello che è il momento del campionato e quello che ci rimane di qui in fondo. Vincerlo per noi vuol dire vincere una partita che determina poi una pagina di storia del club, una pagina di storia di quello che sono le partite più belle che rimangono poi negli occhi di tutti e di conseguenza riceverne poi tutto l'entusiasmo che ci sta dietro e che ti trasferiscono poi sempre quelle migliaia di tifosi che hanno a cuore le sorti della squadra. E poi come anche questo l'abbiamo già accennato, non si può stare ad attendere il futuro noi, bisogna andarlo a determinare.